Ciao a tutti ragazzi, oggi video wrap up di tutti questi librini qui. Sono contenta perché ho fatto delle letture di cui ancora vi devo parlare, quindi molto probabilmente tanti di questi libri saranno delle novità per voi, o almeno sarà una novità quello che io ho da dire su questi libri, non metto in dubbio che magari già li conosciate. Il fatto della novità era riferito soltanto al parlarne su questi schermi. Quindi cominciamo subito dal primo libro che ho intenzione di portare sul canale di cui ancora vi devo parlare, ed è Trieste di Dasha Di Rindic. Nel sottotitolo compare la scritta un romanzo documentario, e non vi nego che prima di leggerlo non capivo che cosa significasse, o almeno lo ritenevo una specifica abbastanza inutile. In parte lo trovo tuttora, però mi rendo conto come questa aggiunta, dal punto di vista editoriale, sia necessaria. Quando l'ho terminato, e vi posso dire che di tutti i libri che ho qui davanti è quello che forse mi ha convinto di più, è quello che mi è piaciuto di più, sia dal punto di vista celebrale, ma anche dal punto di vista emotivo, mi ha trasmesso tantissimo. Quando l'ho terminato, sono andata su internet a fare una serie di ricerche, soprattutto sulla figura della scrittrice, sull'atrice, che è venuta a mancare, mi pare, l'anno scorso, due anni fa. Ovviamente ho fatto delle ricerche, però queste ricerche non è detto poi che me le ricordi, infatti non ricordo l'anno di scomparsa dell'autrice. Sono venuta a scoprire che la necessità del sottotitolo non viene dalla Bonpiani, ma viene dall'editore croato. Questa scelta non è condivisa dall'autrice, anzi l'autrice si è molto inalberata in merito a questa specifica, perché per lei era un qualcosa di assolutamente inutile specificare. Ha sottolineato che il suo intento è quello di intrecciare tra loro degli eventi realmente accaduti con dei fatti immaginari. Per lei la soddisfazione maggiore è che i lettori, alla fine del romanzo, si trovino completamente spesati e non riescano a distinguere quello che è reale da quello che è immaginario. Infatti dal punto di vista della struttura, siamo di fronte proprio ad un documentario, perché abbiamo una sorta di bricolage narrativo in cui vengono inserite a modi montaggio diverse storie. Partiamo dalla storia che è quella che viene dall'immaginazione della Drindic. Il romanzo si apre con Aya. Aya è un'anziana signora che vive in un appartamento popolare e è seduta su una poltrona e ai suoi piedi ha una cesta. Da questa cesta ha una serie di ricordi che lei, mano a mano che parla con l'autrice, va a ricordare, va a rimembrare e quindi a tirare fuori dal paniere. Quello che Aya non riesce a dimenticare, aveva perso suo figlio. Suo figlio è nato nel 1942, e nel 1944 le viene rapito il figlio. Il figlio lei lo ha avuto con un generale dell'SS. Ovviamente già da questa trama scopriremo che non è nulla di nuovo. È la classica storia ambientata nel secondo conflitto mondiale. Quello che secondo me è fonte di originalità non è tanto la storia di Aya di per sé stessa, ma come viene montata dalla scrittura della Drindic. A questa ricerca del figlio negli anni e che arriva fino agli anni 90, il presente narrativo di Trieste, si aggiunge poi la storia familiare della famiglia tedeschi, che è la famiglia di Aya. La famiglia tedeschi è una famiglia che ha vissuto tra Gorizia e Trieste. È una famiglia di origini ebraiche che poi si è convertita al cattolicesimo per sfuggire all'olocausto, e che addirittura nel periodo di massima cattura degli ebrei si è trasferita in Albania. Quindi abbiamo anche dal punto di vista storico la visione dell'Albania e di come gli italiani in un determinato frangente storico erano visti in territorio albanese. Quindi la storia della famiglia tedeschi si va a tessere con la ricerca del figlio di Aya. Una ricerca che, come vi ho detto, arriva fino agli anni 90 e che si va a sovrapporre con la ricerca di Drindic, la ricerca dei colpevoli, delle responsabilità di un danno, di un reato mondiale come l'olocausto. Quindi il documentario di ricerca si va ad arricchire di questa storia privata e nella prima parte del romanzo è messo in primo piano. Mano a mano che noi superiamo la seconda parte diventa più che altro una storia di sottofondo. Per darvi un esempio di come poi personaggi realmente si vadano a tessere con personaggi marginari, vi posso citare Umberto Saba. Umberto Saba sappiamo che è stato rinchiuso negli ultimi anni in una clinica psichiatrica. In questo romanzo Umberto Saba diventa un protagonista secondario perché nello stesso ospedale psichiatrico era internata anche una protagonista della famiglia tedeschi. Quindi abbiamo un dialogo molto bello tra Saba e questa donna della famiglia tedeschi, un dialogo che poi porterà a sottolineare una lettera tra i due, molto bella tra le altre cose, con un verso che poi apre la metà di questo romanzo. La metà di questo romanzo sono delle pagine che dalla critica americana sono state osannate perché sono un capitolo a parte, un capitolo che si intitola dietro ogni nome si nasconde una storia dell'elenco delle 9.000 vittime degli ebrei deportate nei campi di concentramento. Noi lasciamo Umberto Saba che all'interno di questa lettera descrive Trieste come un ragazzino ribelle, aspro e vorace. Non mi ricordavo le parole esatte usate da Dasha Vindrich. Noi quindi lasciamo le parole di Umberto Saba e passiamo all'elenco, all'elenco di vittime. Questo capitolo è stato più volte discusso dalla critica americana ma anche dalla critica europea perché dietro ogni nome si nasconde una storia ed è quello che tende a sottolineare l'autrice. Questo libro non si basa soltanto sul mero raccontare storie e tessere la storia con la S maiuscola con una storia privata, magari immaginata però che trae ispirazione da fatti realmente accaduti. Non è questo. Questo libro si pone, secondo me, negli intenti di tutte quelle opere come Austerlitz di Sebald o come Forse Esther che cercano di riscrivere delle pagine di indicibile della Seconda Guerra Mondiale da un punto di vista diverso. Infatti, quello che mi è piaciuto in Trieste è che si siano sdoganati i famosi neutrali della storia quali il Vaticano ma il Vaticano era stato sdoganato più volte. La Svizzera perché per anni si è sempre detto che la Svizzera è il paese neutrale e poi invece molti processi hanno sottolineato come poi le banche svizzere abbiano aiutato il regime di Hitler e soprattutto come la Svizzera avesse messo a disposizione la propria rete ferroviaria ai tedeschi per portare determinate tratte di ebrei fino alla Polonia. Terza neutrale che Dasha Drindic va a sdoganare è La Croce Rossa e sulla Croce Rossa secondo me si celano le parti più belle di questo romanzo. Dopo questo elenco di 9.000 vittime deportate nei campi di concentramento si apre un vero e proprio montaggio documentario perché Dasha Drindic non fa altro che prendere delle voci di SS dai processi di Norimberga e tesserle insieme alla vita di tedeschi e poi ad altre testimonianze di chi ha vissuto in presa diretta quegli anni. Il montaggio di Dasha Drindic rende la narrazione molto ritmata e molto veloce e soprattutto crea un contraddittorio tra le varie voci inoltre non dimentica la parte più romanzesca ma la tiene in sottofondo come qualcosa che è giusto non dimenticare perché fa parte della famiglia tedeschi ma che può essere condiviso universalmente da più famiglie. Si arriva quindi alla fine del romanzo in cui la voce di Dasha Drindic prende le redini del discorso e escono fuori una serie di affermazioni non tanto pagate grida basta alle fandonie sulla banalità del male sono delle affermazioni che possono essere condivise o meno e ovviamente ognuno poi nel proprio le condivide o meno e ovviamente il dibattito non potrebbe dire non potrebbe limitarsi nel dire sono d'accordo o meno ci dovrebbe essere un dibattito ben più ampio perché sulla banalità del male non si può liquidare il tutto in un sono d'accordo non sono d'accordo però mi preme sottolineare un'altra cosa che attraverso la narrazione attraverso questo montaggio a documentario arriviamo ad avere in primo piano la voce dell'autrice che grida basta come una sorta di grido di chi non ce la fa più e lo rende credibile non lo rende fino a se stesso lo motiva attraverso la narrazione l'ha motivato nelle pagine precedenti attraverso la narrazione e questa è una cosa che dal punto di vista letterario è altissima e rende il libro totalmente riuscito a mio avviso infatti per alcuni versi mi ha ricordato le benevole di Jonathan Littell sono due scritture totalmente diverse ovviamente però nelle benevole di Jonathan Littell ci sono alcune riflessioni che possono avere dei punti in comune con quelle contenute all'interno di questo romanzo ho apprezzato però che in Trieste le fonti siano esplicitate e le trovate esplicitate alla fine del romanzo cosa che invece nelle benevole non c'è le benevole è un romanzo in cui l'autore non ha voluto esplicitare le fonti però non so per quale motivo non l'abbia esplicitate se c'è un motivo o se magari ha voluto soltanto non esplicitarle su questo non saprei però è una cosa che da lettrice trovo sia giusto mettere alla fine di un romanzo del genere un romanzo che si basa su fatti storici che poi vengono tessuti con fatti che poi vengono dall'immaginazione dell'autore debbano essere sottolineate le fonti storiche infatti nell'ultimo capitolo quello delle fonti la Dasha Drindic sottolinea come Aya sia un personaggio inventato perché lei scrive la prima parte gli anni giovanili di Aya tedeschi si basa sul racconto di Frank Gent sulla vita di Fulvia Schiff e della sua famiglia ma la storia d'amore con l'ufficiale dell'SS e la successiva nascita di un figlio sono frutto della mia fantasia quello che attraverso queste fonti lei va a esplicitare è quello che è storicamente avvenuto e quello che può essere per verosimiglianza avvenuto quindi dei fatti che sono immaginati nella testa dell'autrice ma che in un mondo in una realtà di cui non c'è dato sapere possono essere avvenuti è possibile che negli anni passati un Aya tedeschi sia esistita e che le sia stato preso il figlio l'importante quindi è tutto il concetto del confine tutto quello che veniva svolto in Italia nel confine che va tra Gorizia e Trieste la vicenda si svolge soprattutto al confine e Trieste è sicuramente la città italiana che meglio identifica il sentimento di essere ai confini di un paese ed essere un territorio transitorio Trieste è una città che spesso ha cambiato lingua è una città che ha spesso cambiato padroni è una città che non si è mai arresa nemmeno al massacro nemmeno al massacro degli ebrei italiani alla risiera di Sassabba nelle mie ricerche su Dasha Dindic sono andata anche a leggere un'intervista in cui lei spiegava il libro che aveva in mente e che nessun editore le voleva pubblicare e lei non ha avuto nemmeno il tempo per finirlo lei voleva creare una sorta di cofanetto di box all'interno di questo cofanetto sarebbero contenuti una serie di libri il lettore avrebbe potuto prendere di volta in volta il libro scelto e poi andare a rivivere all'indietro un qualcosa del passato della memoria e quindi tenere sempre vivi questi sentimenti di ricerca del passato perché come vi ho detto in riferimento ad altri romanzi quali per esempio Austerlitz o Forzester la memoria è un qualcosa che non è statico è un qualcosa che va allenato ed è un qualcosa che dobbiamo continuamente ricostruire continuamente andare a ricercare io questo ve lo consiglio senza dubbio l'ho apprezzato tantissimo ne ho apprezzato la coesione drammatica il ritmo narrativo il montaggio e soprattutto la coerenza negli intenti dell'autrice vorrei leggere quanto primo Bella Donna e agli altri libri che sono editi in Italia vi voglio parlare ora di un libro cubano questo è stato il primo libro di un autore cubano che ho letto ed è Cadere Cadere è un titolo che può essere letto in due tematiche prima di tutto questa è una storia familiare è un romanzo polifonico abbiamo quattro voci i capitoli iniziano tutti con il titolo di chi sta raccontando quindi sono una sorta di flussi interiori dei flussi di coscienza abbiamo la madre il padre il figlio la figlia quindi questa storia familiare ci viene raccontata da quattro voci che sono tenute insieme da un narratore esterno più o meno affidabile che mostra più facce diverse dello stesso evento e diverse impressioni vi parlavo del termine cadere il termine cadere può essere letto sia da un punto di vista della famiglia all'interno di questa famiglia abbiamo la madre che spiegabilmente dall'oggi al domani si va ad ammalare e quindi la sua malattia inizia con una serie di cadute lei dall'oggi al domani inizia a cadere e quindi questo cadere può essere inteso riferito alla malattia della madre però cadere è un termine che viene utilizzato spesso anche in politica quando cadono i governi quando cadono le dittature quando c'è qualcosa che cade e in politica il termine cadere non è mai un termine sostanzialmente solo positivo solo negativo da qui si può intuire un grandissimo parallelismo tra la storia familiare del privato e poi anche una storia politica questo libro si può leggere con due chiavi narrative diverse sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista politico infatti in questo libro abbiamo una famiglia che si va a sgretolare a seguito della malattia della madre in un paese Cuba che alla fine degli anni 90 è già altrettanto disgregato ideologicamente abbiamo questi quattro personaggi che parlano eppure sono uniti tra loro da legami di sangue sembrano quasi in lotta la colpa di tutto sembra essere data dall'ideologia ma è una lettura anche parziale di questo libro ma quello che nel finale spiega all'autore attraverso una bellissima metafora è come le generazioni le diverse generazioni si cannibalizzino a vicenda non vado oltre a raccontarvi della trama di cadere ma voglio soltanto sottolineare il tema della malattia infatti è uno degli aspetti più originali del romanzo la malattia viene intesa prima come un rifugio e poi come una condanna la malattia sembra qualcosa di inaspettato di misterioso che è avvenuto all'improvviso alla madre e che non può essere arrestato questo cadere della madre non può trovare un'interruzione ed è lo stesso cadere che di riflesso i diversi personaggi avvertono nel paese la malattia quindi per la madre ad un certo punto diventa una zona franca un rifugio dove potersi sedere per lasciare a distanza la vera realtà e gli effetti tragici questa è stata davvero una scoperta perché l'ho trovato casualmente in una delle offerte di quest'estate su il sito Feltrinelli nei Remanders era scontatissimo al 50% poi questa è un'opera prima Alvarez ha debuttato con cadere mi pare che sura abbia portato un altro un altro romanzo in Italia ma non sono sicura ma nel caso l'avesse portato lo leggerei molto volentieri vi voglio parlare di un libro invece adesso di cui vi ho parlato in via in diretta in un video in cui vi parlavo di romanzi ambientati in contesti particolari e qui parliamo del paradiso urbanistico della provincia americana bullet park bullet park è un romanzo altamente simbolico e grottesco infatti a me ha fatto molto ridere come tutte le cose grottesche io mi ammazzo dalle risate qui abbiamo il racconto di due personalità diverse e due modi antitetici di rispondere ad un disagio quello di chi alla fine degli anni 60 e quindi di fronte al boom del consumismo al boom economico non sapeva come reagire abbiamo da una parte l'individuo che reagisce a questa serie di pressioni sociali conformandosi ancora di più e quindi abbiamo nails e poi abbiamo dall'altra parte hammer l'individuo non integrato l'outsider quindi di fronte a un disagio unico dato dal periodo storico abbiamo due diverse manifestazioni entrambe problematiche o un estremo conformismo oppure un disadattamento che si manifesta in un continuo vagare in una serie di depressioni in una serie anche di dipendenze da alcol io non vi dico nulla della trama se non quello che vi ho già detto in questo video e per le altre cose per le altre info vi rimando al video di cui vi lascio sotto il link perché perché la trama di questo libro come tanti altri come tanti altri libri che ci sono all'interno di questo video è minima e bruciarvela in un wrap up non ha senso sappiate che è un romanzo altamente simbolico la scrittura di Civer è una scrittura molto focalizzata sul dettaglio è una scrittura in cui le parole ma soprattutto gli oggetti simboli non vengono presi a caso e soprattutto si ripetono per amplificare il loro simbolismo questa estrema cura nel dettaglio rende la narrazione piuttosto lenta ed è una cosa voluta dall'autore quello che ho apprezzato un po' meno è il finale perché se è vero i primi due terzi del libro sono molto lenti molto pacati molto dettagliati il finale è quasi in sintesi arriviamo al finale molto velocemente e l'effetto veloce non è dato dalla suspense e quindi in quel caso lo trovo leggermente non riuscito ma è dato da una frettolosità almeno io l'ho avvertita come tale mi sarebbe piaciuto magari qualche pagina in più nel finale perché il finale sembra davvero buttato lì ma nonostante questo lo reputo veramente un bellissimo libro e ve lo consiglio di John Cheever come già vi ho detto anche nel video di cui vi metto il link giù sotto e non lo ripeto più ho letto il racconto il nuotatore che trovate free online ed è bellissimo che dirvi è veramente bello e di John Cheever vorrei leggere i racconti con quelli lui ha vinto il Pulitzer quindi vi aspetto grandi cose vi vorrei parlare ora di Bussola di Mattia Hennar di Bussola di Mattia Hennar ho fatto un reading vlog ho fatto il mio reading vlog di fine agosto a Nizza perché me lo sono portato in Francia Bussola è un romanzo che ho apprezzato moltissimo per la scrittura mi è piaciuta tantissimo la scrittura di Mattia Hennar una scrittura che va a tessere questo voce del protagonista principale che è una voce molto obiettiva molto pratica pragmatica con un amore per l'Oriente quindi con l'amore per l'infinito per il viaggiare ho trovato questa influenza questa voler mischiare le carte carte così diverse tra loro molto interessante quello che non mi ha fatto apprezzare appieno il romanzo è le troppe citazioni tantissime citazioni tantissime citazioni culturali tantissime citazioni letterarie musicali anche perché il protagonista è un musicista quindi vi parlerà di tutta quella cultura occidentale che si è influenzata con l'Oriente infatti in Bussola noi abbiamo l'omaggio della cultura occidentale che ha sempre avuto una fascinazione per l'Oriente come poi il concetto di Oriente sia un concetto labile anche in questo caso il confine che cos'è il confine il confine tra Oriente e Occidente in un'epoca significava un determinato concetto per un musicista il confine tra Oriente e Occidente era un luogo per un altro musicista invece era un tipo di musica e è bello vedere come poi si può attingere dalla letteratura dalla musica per andare poi a sottolineare come nulla sia di definito e tutto sia possibile leggere in chiave altamente relativa il titolo prende ispirazione da una bussola i protagonisti di questo romanzo sono due sono un ragazzo e una ragazza tra i due c'è il classico amore platonico lui ama lei lei ovviamente è presa da altre cose da altri viaggi e non se lo fila di pezza lui e questa è la trama di tantissimi libri leggendolo però non avrete l'impressione del déjà vu perché Mattia Inar è bravissimo a rendere il tutto in maniera molto originale lei farà un regalo a lui e gli regalerà una bussola che anziché indicare il nord indicherà sempre l'est e infatti l'intento di questo libro è quello di indicare perpetuamente l'est che cos'è l'est per i protagonisti e che cos'è l'est per la letteratura per la musica è un libro che io vi consiglio Mattia Inar lo voglio assolutamente leggere in altri in altri romanzi è un romanzo che però non mi è arrivato come dovrebbe perché ho un po' faticato a stare dietro a tutte queste nozioni in alcuni punti soprattutto quelle legate alla musica mi sono un po' annoiata ho trovato bellissime invece le pagine su Istanbul veramente veramente belle però è un libro apprezzato che a me ha fatto molto piacere leggere in viaggio tra le altre cose l'ho trovata un'ottima scelta e sono stata previdente assolutamente veniamo invece al libro che abbiamo letto questo mese con i lettori selvaggi ossia la vita breve di Juan Carlos Sonetti la vita breve è un esperimento di frantumazione narrativa la storia del protagonista è un pubblicitario di Buenos Aires all'inizio degli anni 50 una crisi di lavoro gli viene dato un compito quello di scrivere una storia per il cinema da lì nascono una serie di personaggi o meglio nasce un personaggio che poi è quello nato dalla testa del protagonista che è un medico che si innamora di una donna poi abbiamo questo protagonista che ha una moglie che è uscita da poco da un tumore che ha subito l'asportazione di un seno e questa asportazione viene vista da lei come un'amputazione della propria femminilità della propria sessualità da lui viene vista come una sorta di amputazione del loro rapporto di coppia e quindi i due si allontanano da questo allontanamento subentra poi una vicina di casa che non è altro poi che una prostituta e lui per agganciare questa vicina di casa si creerà un'altra identità quindi abbiamo lui protagonista reale un protagonista inventato dalla sua immaginazione che poi rifa quello che lui in realtà sta facendo e poi abbiamo un altro protagonista non è un personaggio di immaginazione ma un personaggio dato proprio dal camuffamento è un vero e proprio costume di scena e quindi abbiamo tutto il discorso della realtà come la realtà possa essere immaginata ma possa essere anche ricreata abbiamo tre personaggi tre linee narrative nella seconda parte Onetti fa una cosa che io ho apprezzato tantissimo ossia prende queste tre realtà che sono date dalla realtà reale tangibile la realtà immaginata e poi la realtà data dalla finzione quindi dal tuo camuffarti come una terza persona e le sparpaglia le va a mischiare tra loro crea una serie di giochi a specchio ho apprezzato tantissimo la scrittura di Onetti già lo conoscevo con gli addi io reputo Onetti un gran romanziere mi è piaciuta tantissimo la sua intenzione in questo romanzo ho trovato che dietro questo romanzo ci sia un disegno prestabilito chiarissimo e si è reso anche in modo magnifico il problema è che mi sono un po' annoiata ho un po' avvertito l'effetto soap ossia tutte queste coppie nelle diverse realtà che si andavano a formare un pochino le ho sofferte ma questo è un problema mio di me come lettrice che non ama tantissimo questo genere di storie vi posso dire che Onetti è uno scrittore dalla scrittura altamente poetica evocativa gli aggettivi di Onetti sono utilizzati per dar forza agli immagini e soprattutto la punteggiatura ha una ricerca stilistica fortissima non ho apprezzato qui davvero la storia la storia mi ha annoiato e sono arrivata nel finale un po' stanca ed è un finale che non si meritava la mia stanchezza e che un po' l'ho bruciato quindi in virtù di questo faccio mea colpa e metto le mani davanti però non escludo una rilettura di questo libro e soprattutto di Juan Carlos Sonetti ho comprato i racconti e i racconti Claudia lì se legge lì se viaggia mi ha detto che ne ha letto il primo e mi ha detto che era bellissimo quindi io sono contenta del fatto che Onetti ha scritto altri libri che posso apprezzare e di cui leggerò sicuramente altro perché ho voglia di leggere Il Pozzo Raccattacadaveri e altri altri ma triste come lei ce l'ho di là e quindi aspetto per leggerlo vi voglio parlare dell'ultimo libro che non è un romanzo ma è un libro di cui ho parlato qualche video fa molto brevemente è una raccolta dei saggi di James Wood che mi ha mandato Minimum Fax ed è Come funziona la critica io lui l'avevo già letto con Come funzionano i romanzi vi lascio il link del video in cui vi parlo di nuove uscite tra le quali vi parlo anche di questo e vi dico del perché io questo ve lo consiglio secondo me questo è un libro ma in particolare anche Come funzionano i romanzi che dovrebbe essere letto da tante persone che parlano di libri su internet perché James Wood oltre a essere un grandissimo critico letterario ha la capacità anche di fare una critica senza prendersi sul serio e quindi senza avere il piedistallo di chi ne sa più di te o di chi ne sa più di quello che sta criticando o di quello che sta leggendo e soprattutto lo fa con ironia e secondo me la critica fatta con ironia è la critica che ha all'interno della sua motivazione anche l'intelligenza di chi sta scrivendo quando manifesti intelligenza in quello che dici secondo me sei inattaccabile James Wood è inattaccabile c'è da dire una cosa che molti di questi scritti sono facilmente reperibili free online per esempio quelli su McCarthy li avevo già letti mi è piaciuto leggere James Wood che parlava di Elena Ferrante autrice che ancora devo leggere sto leggendo al di là dell'allarme sto leggendo La montagna incantata nella montagna incantata ci sono tantissime riflessioni sul tempo me ne è venuta in mente una mentre che aspetto che finisce l'allarme chissà cosa direbbe Thomas Mann sugli allarmi interminabili a Roma saranno rubando un cavo cosa staranno rubando un cavo mi scuso per l'allarme continuiamo perché sennò qui non finiamo più e tra le altre cose devo fare altre cose nella mia vita vi stavo parlando di Elena Ferrante James Wood parla di Elena Ferrante io non l'ho mai letta Elena Ferrante però mi ha fatto piacere leggere una voce dall'estero su Elena Ferrante mi è piaciuto moltissimo c'è da dire una cosa vi stavo dicendo che le parti di McCarthy le avevo già letto online quindi alcuni di questi saggi è facilmente leggerli online perché sono pubblicati nel New Yorker quindi li trovate pubblicati sul sito online del New Yorker basta fare una ricerca su Google New Yorker James Wood e vi escono tutti gli articoli di James Wood in questa selezione non si parla soltanto di autori contemporanei ma si parla è finita è finita ma si parla anche di autori classici come per esempio Chekhov si parla anche del Don Kishot si parla di Virginia Woolf di Joseph Roth c'è da dire una cosa sugli autori classici James Wood non è che dice qualcosa che magari se avete letto se avete studiato avete letto qualcosa di storia della letteratura già non sappiate sono delle nozioni molto easy kinemastica di letteratura probabilmente quelle nozioni sulla letteratura classica già le ha nel proprio bagaglio culturale quello che però fa la differenza è come le scrive James Wood la differenza non la fa il cosa ma la fa il come stai scrivendo e per questo motivo io lo consiglio come lettura a chi parla di libri su internet perché dà la possibilità di capire la giusta misura con cui si può parlare di libri dall'alto del nostro strumento digitale che ci compete sì dall'alto del nostro strumento digitale che ci compete per me è stata una lettura che mi ha dato degli spunti interessanti assolutamente e che sono stata contenta di fare quindi lo promuovo a pieni voti e niente ragazzi questa era il wrap up delle letture dell'ultimo periodo fatemi sapere se oltre all'allarme che ha scappato per 3-4 minuti che cos'è il tempo diceva Thomas Mann il tempo una settimana sei mesi non ce l'ho vicino il libro sennò vi leggevo quella citazione vabbè e niente ragazzi questa era la fine del video ho perso il filo e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale mettete un like commenti fate come vi pare io vi saluto e vi ringrazio vi auguro buone letture ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti